Edizione 2019, osservatorio IME Italia da IARTOP Consulting. Abbiamo il piacere di avere con noi Gianfranco Bellin, presidente e amministratore delegato di G-Bus. Dottor Bellin, G-Bus, azienda dalla forte vocazione tecnologica e design, da pochissimo quotata su Borsa Italiana, segmento IME Italia. Quali sono stati i motivi che vi hanno spinto verso la Borsa? Si bisogna risalire qualche anno fa per capire un po' la storia che ci ha portato alla quotazione IME Italia. Quindi G-Bus arriva da un percorso di aggregazione di quattro aziende che hanno lavorato insieme per 25 anni e che poi hanno deciso di fondersi. Quindi questo percorso è nato da una mia esigenza professionale che è quella di dare il testimone, cedere il testimone, quindi passaggio generazionale. Come si affronta? Ecco, questo è un bel tema. Questo è un metodo per affrontare il bisogno relazionale, secondo me, vincente. Questa storia mi ha insegnato che affrontarlo, quindi la preparazione dell'imprenditore prima e della seconda generazione poi, è fondamentale. L'approdo che abbiamo avuto noi è stato prima di tutto un fondo di private equity che ha lavorato con noi in minoranza per oltre due anni e ci ha dato la cultura della trasparenza, la cultura appunto di collaborare, di convivere con un mondo della finanza che era completamente estraneo all'attività e alla vita dell'azienda negli anni precedenti. Dopo un percorso di due anni quindi di coesistenza e di conoscenza di cultura, quindi l'ingresso di nuovo CFO, l'ingresso di nuove figure professionali, quindi direzione commerciale, quindi un'organizzazione, un riassetto industriale e di cultura molto importante. Questo ci ha portato poi a decidere di approdare all'AIM, di cercare quindi nuove fonti di crescita, nuove forme di finanziamento per la crescita perché questo è quello che il mio dovere di padre è quello di passare non solo di trasferire un'azienda ma di trasferire un'azienda sana, trasferire un'azienda moderna, trasferire un'azienda che abbia del futuro. Ecco, ha giustamente citato la trasparenza. Uno dei temi centrali nelle tavole rotonde dell'osservatorio AIM Italia di oggi. Le chiedo quali sono gli sforzi di Gibus su questo tema, la trasparenza? La trasparenza diventa una cultura, non è un punto d'arrivo, è un lavoro continuo, qualche volta anche di violenza nei confronti dell'imprenditore, nei confronti di se stessi perché ci si mette a nudo. e mettere a disposizione tutta la propria storia, la propria azienda, il proprio ego, la disposizione di un mondo della finanza è una cosa difficile ma è una cosa necessaria. Quando si capisce questo diventa tutto molto più facile, tutto molto più semplice, tutto molto più lineare e la trasparenza diventa un modus operandi all'interno dell'azienda, non solo dell'imprenditore ma di tutti coloro che partecipano alla vita dell'azienda. Cioè l'azienda è in vetrina, l'azienda è continuamente esposta ed è pubblica e questo è molto importante proprio per la sua fase di crescita. Quindi un'azienda lanciata, slanciata verso il futuro e ha bisogno assolutamente di nuove forme di finanziamento che possono arrivare solo attraverso una condivisione del proprio business, della conoscenza dei propri ruoli quindi della disponibilità a essere anche al tavolo del CDA, quindi apertura del Consiglio di amministrazione apertura a consiglieri indipendenti esterni, a quella che è la compagine familiare perché diventi a tutti gli effetti una vera azienda con il contributo di tutte le forze anche finanziarie e quindi che collaborano non solo di business ma quindi anche di sviluppo finanziario che collaborano alla creazione di nuovo business futuro e di nuova attività futura. Questo è il punto di vista del dottor Gianfranco Bellin, lo ringrazio, ricordo amministratore delegato e presidente di Gibus.